La stessa ditta che lo ha richiamato mentre ancora era in ospedale, abbiamo scoperto che non è coperta da polizia assicurativa. Oltre il danno, la beffa. Lo scorso 18 maggio un infortunio sul lavoro ha ridotto in fin di vita un apprendista operaio, 26 anni, di Rosà, caduto dal tetto di un'azienda di Cassola, mentre eseguiva lavori di bonifica di amianto. Un volo di 7 metri era stato trasportato con l'elisoccorso al San Bortolo di Vicenza, ricoverato per una settimana nel reparto di rianimazione. I medici hanno diagnosticato una prognosi di mesi e nei prossimi giorni il 26enne dovrà essere sottoposto a un nuovo intervento chirurgico. Due giorni dopo l'infortunio, mentre il giovane era ancora in rianimazione, colpo di scena. La ditta gli aveva inviato una lettera di richiamo, un procedimento disciplinare, per non aver prestato la dovuta attenzione nell'effettuare il movimento che ha causato la caduta. Una vicenda che avevamo riportato anche nei nostri telegiornali e oggi altra notizia bomba. La stessa azienda per cui lavorava il 26enne era priva di copertura assicurativa. Questa copertura in quel lasso temporale in cui è avvenuto il fatto non c'era perché l'azienda aveva cambiato ragione sociale e per quei tre mesi i suoi dipendenti non erano assicurati. Una ditta che si permette di richiamare un giovane operaio inesperto che cade e si fa male, diciamo per tutelarsi formalmente, perché altre strade non vedo, poi si entrerà nel merito della bontà di questo richiamo, ma anche su questo noi di Studio 3A ci stiamo adoperando, però contestualmente non sono neanche assicurati i tuoi dipendenti, per carità non vi ho l'obbligo di legge, ma allora a questo punto civilmente, per queste voci di danno, si chiamano tecnicamente estraina, ne risponderà direttamente l'azienda, con i suoi beni.